Non le sono bastate i discorsi in codice in Ucraino per evitare l'arresto. La polizia ha sgominato un traffico di droga che faceva capo a Sofia Medellin, un chiaro riferimento alla città colombiana centro-nevralgico del traffico di superfacenti negli anni Ottanta. Con il fidanzato rumeno di 24 anni, Daniel Andri Avram, la ragazza che in realtà si chiama Sofia Cutri e ha 19 anni, gestiva anche su internet un giro di spaccio di Ashish che aveva visto coinvolti anche alcuni minorenni. 38 quelli identificati nel corso delle indagini del commissariato di Ladispoli, coordinate dalla procura di Civitavecchia. Ieri i due giovani sono stati arrestati sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare con obbligo di firma e di dimora notturna. Confiscato un appartamento ammazzano romano acquistato dalla coppia con i guadagni della vendita della droga e anche per fare in modo che non fossero riconducibili l'attività illecita. La casa è stata acquistata a fine 2023 per 30.000 euro.